salve a tutti e benvenuti a questa recensione sul mio canale oggi vi voglio parlare di queste cuffiette dal prezzo veramente low cost sono le i10 tvs e queste cuffiette potrebbero essere una delle varie e tante soluzioni analoghe che ci sono sul mercato a un ottimo prezzo ecco esteticamente come potete vedere richiamano perfettamente lo stile delle apple apple ovviamente non hanno la stessa qualità del suono anche perché queste cuffie costano veramente una cifra irrisoria sono diciamo molto curate hanno un bel piccolo manualetto di istruzioni e come vedete sulla scatoletta che funge sia da custodia che da ricarica hanno delle spie luminose che indicano appunto lo stato delle cuffie ecco con i led di ricarica e della batteria rimanente e sono molto pratiche molto leggere da indossare e sinceramente vi devo dire anche facendo sport non danno nessun tipo di fastidio e restano saldamente al loro posto sono compatibili con ovviamente android sia anche con i pc con il mac e la distanza di trasmissione del bluetooth che ricordo che è 5.0 ecco e per poter interagire diciamo che sono presenti dei comandi touch sullo chassis mentre l'accoppiamento avviene automaticamente all'accensione esteticamente come detto sono dei cloni di apple airpods in tutto e per tutto dalla forma delle auricolari al colore passando anche per la custodia ovviamente la resa e le caratteristiche dell'audio sono molto molto ma differenti dalla versione originale di apple che forse è insuperabile ma chi non vuole svenarsi ovviamente acquista un prodotto non troppo scadente da un ottimo rapporto qualità prezzo come vedete la connessione è molto veloce istantanea con i vari tapp possiamo andare avanti con le canzoni e tornare indietro e alzare e abbassare il volume in conclusione che dirvi il prezzo di queste cuffiette è veramente qualcosa di pazzesco le trovate a circa 10 euro o poco più su aliexpress mentre su amazon andiamo sicuramente più o meno sui 20 euro i link ovviamente li trovate in descrizione posso dirvi ecco per concludere che le promuovo sicuramente per il loro incredibile rapporto qualità prezzo e ve ne consiglio assolutamente l'acquisto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima recensione un saluto a tutti ciao